Nel 2021 nelle Marche ci sono stati 9.222 nuovi nati, mentre nel 2022 siamo scesi a 8.779, il valore più basso mai registrato nella nostra regione. Sono questi i dati istat evidenziati dal Forum delle Associazioni Familiari delle Marche. Una situazione drammatica della denatalità nella nostra regione abbina tal fatto che le Marche rappresentano uno dei territori dall'invecchiamento migliore. Tutte e cinque le province marchigiane hanno registrato cali. A Pesaro Urbino si è passati da 2.182 a 2.122 nati in un anno, in un calo che parte da lontano. Nel 2010 nella regione Marche sono nati circa 16.000 bambini, nel 2022 sono nati 8.300 bambini, quindi la metà di meno e questo praticamente ci dovrebbe far pensare ad una riorganizzazione di quelli che sono un po' i punti nascita, in quanto quella che è la legge Balduzzi che prevede praticamente punti nascita aperti al di sopra dei 500 nati, praticamente dovrebbe mettere in mano ai politici una riorganizzazione di questo lavoro e di questa organizzazione dei punti nascita. Oggi bisogna lavorare in sicurezza e la professionalità dei medici migliora quando ci sono dei numeri importanti nel luogo dove si lavora. C'è anche un altro problema, noi dobbiamo anche incentivare quelle che sono praticamente le politiche, e questo è un monito che faccio anche ai politici della regione, di fare delle leggi per incentivare quella che è la politica della famiglia, dove praticamente oggi fare figli dovrebbe essere una ricchezza per le famiglie, dove praticamente i politici dovrebbero dare, e io faccio un po' di polemica, invece che dare degli assegni per redditi di cittadinanza dovrebbero dare degli assegni corposi a quelle donne che partoriscono più figli, perché questo praticamente garantirebbe un futuro alla società, perché fra vent'anni se noi andiamo avanti con questi numeri non ci sarà più una continuità della società.